Non ci sarebbe stata crescita e sviluppo senza l'asset più importante per noi che sono le persone. Oltre 2.200 sono quelle che rappresentano il nostro gruppo, di cui 1.300 circa in Europa, ma in Italia abbiamo 700 dei nostri collaboratori che sviluppano la loro opera tra Gallarate, Vergiate, il Veneto e la Sicilia. Il 2024 è stato caratterizzato da un anno di grande crescita anche in termini occupazionali. Abbiamo inserito nel nostro gruppo oltre 100 persone, di cui il 60% in Italia, a dimostrazione che la nostra area d'origine è quella italiana, senza dimenticare che tutte le nostre realtà nel gruppo performano per un unico obiettivo ed essere complementari l'una con l'altra. Nel 2025 consolideremo questi numeri e continueremo con questo trend. Vieniamo da un anno di crescita forte dove siamo cresciuti a doppia cifra organicamente e anche grazie alle acquisizioni. Quindi il 2025 sicuramente prevede le acquisizioni come quella di Domodi Professional che è stata fatta giusto recentemente e l'anno prossimo prevede anche di espanderci internazionalmente, soprattutto nei Stati Uniti e in Asia. Il mondo dei dolci si focalizza molto su due pilastri. Uno è il multi texture, quindi la consistenza un po' sorprendente che cercano i nostri consumatori, dove noi abbiamo una risposta con le nostre inclusioni che abbiamo acquisito grazie al ramo di Carey Sweet che abbiamo comprato l'anno scorso. E dall'altro lato un forte focus dei consumatori sulla parte di diciamo salute, dove sia lì alle geni ma anche la coscienza di che cosa mangiare diventa sempre più importante, con meno zucchero, senza lattosio eccetera. E dove nelle nostre fabbriche stiamo cercando di investire in maniera tale di rispondere a queste esigenze. Abbiamo uno stabilimento qua accanto che è completamente segregato senza lattosio e questo è uno dei esempi di diciamo per cui vi rate la nostra fabbriche anche in questo senso.